Questa è una proposta di legge che ha dei capisaldi importanti, che sono quelle dell'economicità, della trasparenza, dell'efficacia e efficienza e poi dell'innovazione rispetto a alcune competenze innovative. Fino ad oggi abbiamo cinque consorzi in Abruzzo, ma sono cinque repubbliche autonome, ognuna gestita in maniera diversa e noi con questa legge uniformiamo le attività. Un discorso legato all'efficienza, innanzitutto c'è un forte abbattimento dei costi, diciamo così, degli organi politici e di governo. Riduciamo il numero dei componenti in maniera importante, introduciamo il revisore unico, introduciamo insomma una serie di elementi di certezze rispetto a quelle che sono oggi atteggiamenti che i consorzi hanno in maniera diversa. L'elemento innovativo, introduttivo insomma in questa legge importantissimo è quella di avere oggi una gestione, di costruire una gestione associata. Cioè tutta una serie di attività e di competenze verranno convenzionate tra i consorzi e verranno gestite in maniera unica. Per poter attuare la legge, per mettere insieme queste attività che sono importanti, complesse, c'è necessità di una gestione unica. Quindi ci sarà una fase commissariale dettata in maniera chiara con i tempi e con le attività che devono fare già previste in legge e hanno una durata diciamo sostanzialmente di sei mesi perché sono le attività insomma cadenzate anche in questa legge. Vogliamo portare certezze perché tutta questa attività e questa legge tende sostanzialmente a garantire un servizio agli agricoltori abruzzesi, a fare chiarezza su come bisogna gestirle, a dare certezze per le risposte e cercare soprattutto di abbassare i costi per dare anche quella sensazione, che non deve essere più sensazione ma certezza, agli agricoltori abruzzesi rispetto alle stanze che loro hanno.